con Marco Travaglio che invito qui, atteso da tantissime persone che sono a corse qui appunto per affrontare il tema della giustizia e Marco Travaglio ci parlerà appunto del ruolo dell'informazione ai tempi della rete, quindi il rapporto tra giustizia e impunità. Credo che una presentazione di Marco Travaglio è inutile, quindi c'è chi parla magari presentandosi e chi invece racconta quello che fa e insomma anche l'analisi di una realtà che ogni giorno insomma ci viene raccontata dalle pagine del tuo giornale, quindi lascio a voi Marco Travaglio. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Quando devo finire mancano 5 minuti, fatemi dei cenni perché non ho la clessidra. Io credo che il rapporto fra il web e l'informazione sulla giustizia e quindi sull'impunità che è un po' il tema che mi è stato assegnato sia un tema fondamentale non soltanto per il settore della giustizia che riguarda magistrati, avvocati, imputati, parti civili, vittime, ma riguarda la politica e la democrazia perché sempre più spesso le cronache giudiziarie si intrecciano e si fondono con le cronache politiche, questo lo sappiamo in parte perché c'è un tasso di devianza criminale nella classe politica enorme, spropositato, unico in Europa e sia perché nel fare politica o meglio nell'amministrare spesso i protagonisti della vita politica e amministrativa incappano nelle maglie della giustizia o perché i magistrati devono verificare la liceità dei loro comportamenti oppure perché spesso la battaglia politica si fa anche con denunce e contro denunce e quindi spesso le indagini partono sulla base di denunce di oppositori politici che poi molto spesso si rivelano fondate e altrettanto spesso si rivelano infondate e quindi inevitabilmente i riverberi delle indagini giudiziarie vanno a intersecarsi con la polemica politica e con il problema del consenso. Per questo l'informazione giudiziaria deve essere massimamente attenta, direi quasi tridimensionale, deve essere molto professionale, molto informata, molto documentata, profonda, deve essere affidata a professionisti. Per raccontare quello che succede in una manifestazione di piazza basta un iPhone con la sua telecamera accesa, per dare conto di un comizio basta un iPhone acceso e un video, per dare conto di quello che succede in un'indagine, in un processo, in una sentenza. Ci vuole un professionista serio che si documenta, che sa, che ricorda, che ha memoria e che sa dare la tridimensionalità della notizia. Farò alcuni esempi per spiegarmi meglio, proprio perché io penso che il web ci ha fatto fare dei grossi passi avanti. Io ricordo, parlo spesso di questo perché è un caso clamoroso, forse il processo più importante al politico più importante accusato del reato più grave che si sia mai celebrato in Italia e indubitabilmente il processo Andreotti, tanto perché Andreotti è un unicum, non è mai capitato che un Presidente del Consiglio abbia guidato sette governi e sia stato ministro negli intervalli fra un governo e l'altro diciotto volte e non è nemmeno mai capitato che un Presidente del Consiglio sia stato incriminato, imputato, rinviato a giudizio e giudicato per associazione con la mafia. Quindi il processo più importante al politico, più importante per il reato più grave che si sia mai celebrato, direi pure in Europa, non soltanto in Italia, è sicuramente il processo Andreotti. Quanti sanno esattamente com'è finito il processo Andreotti? Non dico qui, probabilmente qui vince il popolo informato. Ma se allarghiamo lo spettro e vediamo quanti in Italia sanno com'è finito il processo Andreotti, possiamo dire tranquillamente che la gran parte degli italiani pensano che Andreotti sia stato assolto. Perché lo pensano? Perché è quello che hanno letto sui giornali e hanno sentito dire ai telegiornali. In un periodo in cui l'informazione era un'esclusiva della carta stampata e della televisione. Se andate in emeroteca o andate sugli archivi, ormai alcuni giornali hanno i loro archivi digitali, io consiglierei loro di espungere le prime pagine dedicate al processo Andreotti perché fanno una figura di merda. Quindi dai loro archivi io toglierei le prime pagine dedicate alle tre sentenze. Perché le tre sentenze sono in primo grado una soluzione per insufficienza di prove con una motivazione devastante per la quale pur essendo stato assolto in primo grado Andreotti avrebbe dovuto andare a nascondersi anche se era stato assolto per le cose che si dicevano provate anche se si riteneva che poi non configurassero il reato. In appello quella sentenza è stata ribaltata perché la corte di appello ha detto no, non è vero che c'era un'insufficienza di prove per condannarlo. Le prove erano più che sufficienti per condannarlo fino alla primavera del 1980 ma il reato si è prescritto tre mesi fa rispetto a quando veniva pronunciata la sentenza. La Cassazione, dato che Andreotti ha fatto ricorso perché lui non si basava sui giornali per capire come era andato il suo processo d'appello, si basava sulle motivazioni della sentenza, anzi sul dispositivo, sono tre righe, le possono capire anche i bambini scemi, c'era scritto reato commesso ma prescritto fino alla primavera del 1980. Quindi Andreotti l'ha capito anche se la Buongiorno pubblicamente strillava assolto assolto assolto, l'aveva capito che era stato ritenuto colpevole di mafia fino alla primavera del 1980. E la primavera del 1980 non è così una data qualsiasi, è la data del suo secondo e ultimo incontro documentato con il capo della mafia dell'epoca Stefano Bontade per parlare del delitto Mattarella di cui Bontade aveva, Mattarella è il fratello del nostro Presidente della Repubblica, di cui Bontade aveva preavvertito Andreotti un anno prima nel 1979 dicendogli o lo fermate nella sua attività ostruzionistica nei confronti dei cugini salvo oppure noi lo ammazziamo. Andreotti non ha fatto nulla, l'ha lasciato ammazzare il giorno dell'epifania del 1980 e poi è andato di nuovo a incontrare Bontade nella primavera del 1980 per chiedere gli spiegazioni e Bontade gli ha risposto, Presidente l'aveva avvertita. Questo è tutto documentato, è tutto provato, questa è la ragione per cui si ferma la prova del suo reato nella primavera del 1980. Andreotti ovviamente ritenendosi screditato da quella sentenza fa ricorso in Cassazione e la Cassazione gli dà torto, lo condanna a pagare le spese processuali e respinge il suo ricorso confermando in toto la sentenza di appello. Il giorno dopo i giornali sia quando è stato assolto per insufficienza di prove in primo grado, sia quando è stato ritenuto colpevole e salvato dalla prescrizione per soli tre mesi hanno continuato a scrivere che era stato assolto e anche quando la Cassazione ha confermato che era colpevole ma prescritto hanno continuato a scrivere che Andreotti era stato assolto. Per cui la stragrande maggioranza degli italiani sono convinti tuttora che Andreotti sia stato assolto. Con tutte le conseguenze del caso, come si sono permessi i magistrati di processarlo, com'è facile in Italia essere sputtanati per dieci anni in un processo che poi finisce nel nulla, perché questo è il corollario di un'informazione falsa in partenza. Se non sappiamo nemmeno come popolo italiano come è finito il più importante processo, il più importante politico per il reato più grave che si potesse commettere da parte di un politico, figuratevi che cosa possiamo essere certi di sapere su casi molto meno importanti. Il web da questo punto di vista qualche vantaggio ce l'ha portato, perché sul web si può pubblicare, dato che il web sfonda i limiti spazio-temporali che invece dominano nella carta stampata e nelle televisioni, nelle televisioni più di tanto tempo non puoi dedicare a una notizia. Sui giornali più di tanto spazio non puoi dedicare a una notizia. sul web puoi pubblicare una sentenza di 900.000 pagine, se ce ne fosse una di 900.000 pagine non c'è problema, ne puoi pubblicare anche 900.000 di sentenze di 900.000 pagine. Il problema poi è chi legge una sentenza di, non dico 900.000 ma anche di 900 pagine, ma anche di 300 e soprattutto tutti quelli che la leggono, che strumenti hanno poi per capirla, per analizzarla, per andare a vedere che cosa vuol dire quella formula giuridica eccetera, ecco perché comunque ci vuole sempre la mediazione. Di un giornalista professionista che può lavorare sul canale del web come può lavorare sul canale della carta stampata, della radio, della televisione e di tutti gli altri medium o media. Quindi il web ci ha portato un grosso vantaggio, se prima l'esclusiva dell'informazione ce l'avevano televisione e carta stampata e in minima parte radio, adesso c'è uno strumento che nessuno può controllare, nel quale si può mettere documentazione. Ma oltre a mettere documentazione uno ci può anche mettere del suo e quando uno ci mette del suo può metterci delle cose estremamente precise, documentate e informate come ci può mettere un sacco di cazzate. E sul web, come diceva Umberto Eco, un premio Nobel vale esattamente quanto un ignorantone e diciamo valgono tutti allo stesso livello, quindi c'è un appiattimento. Quindi molto spesso l'input che ti può arrivare da una fonte informata viene eliso, viene cancellato da una fonte disinformata. Ecco perché io ho sempre pensato che questa polemica sulle fake news del web, fake news vuol dire balle poi tranquillamente nobilitate dalla parola inglese. Questa polemica sulle fake news del web è posta perché se una fake news è resa credibile dalla testata Repubblica, Corriere della Sera, la stampa, il messaggero Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, vabbè insomma, ammesso che qualcuno ritenga autorevole il Tg4, ma insomma Tg5, Italia 1 eccetera eccetera, cioè se c'è una testata che qualcuno ritiene credibile e autorevole quella balla passa più facilmente. se tu vedi che sopra c'è il nome di un noto cazzaro è evidente che qualunque cosa scriva non ti fidi. Quindi le fake news sui giornali, soprattutto quelli che hanno una certa credibilità fondata o non fondata, comunque ce l'hanno perché sono lì da 100-200 anni, perché hanno dei giornalisti prestigiosi eccetera eccetera, sono molto più pericolose delle fake news che vagano sulla rete e che molto spesso sono elise, cancellate, neutralizzate da fake news di segno opposto, di segno contrario. Quindi io ho sempre pensato che quando mentono i giornali e i telegiornali fanno infinitamente più danni di quando non mente un qualsiasi sito, un qualsiasi blog, una qualsiasi pagina di social media. Quindi ci sono naturalmente i pro e i contro. Nell'informazione giudiziaria avere lo strumento del web ti consente appunto di pubblicare la sentenza Andreotti e di far sapere a una marea di persone come è finito veramente quel processo, ma quello che ti legge crederà a quello che tu stai dicendo soltanto se a dirtelo è qualcuno che si è già costruito una sua credibilità. Perché se è uno che nessuno sa chi sia, inevitabilmente chi legge resterà lì sospeso e dirà ma sarà vero o non sarà vero. Quindi puoi pubblicare atti, documenti che i giornali o non vogliono pubblicare oppure non hanno lo spazio per pubblicare. Puoi far passare una serie di notizie che vengono censurate dai canali dell'informazione ufficiale mainstream, puoi dare voce a persone che vengono tacitate nei canali tradizionali, ma le persone che vengono tacitate nei canali tradizionali si dividono sempre in due categorie, quelle che vengono tacitate perché sono dei cazzari ed è meglio che non parlino e delle persone che vengono tacitate perché dicono la verità e perché non è bene che la gente la sappia. E quindi ci sono molti cazzari che se la tirano da persone che dicono la verità e vengono censurate. Quindi come fai a distinguerli? Ecco che poi c'è una responsabilità nel lettore, nell'utente, nell'internauta che sono fondamentali proprio perché chi fruisce di quell'input che gli arriva deve comunque cercare di capire se chi glielo manda quell'input è persona affidabile, è fonte cristallina o è fonte inquinata. Dall'altro ci sono le controindicazioni, quindi l'appiattimento dello strumento che mette sullo stesso piano il premio Nobel e l'ignorante, l'inevitabile brevità del tempo di lettura che c'è sul web. È raro che uno riesca a leggersi un intero giornale sul web, è raro che uno riesca a leggersi un'intera sentenza. Di solito il web è molto utile per sapere in tempo reale le cose che sono successe leggendo il titolo e qualche piccolo dettaglio. Non è un luogo di grande approfondimento e questo naturalmente rende il mezzo più incline alla superficialità e meno adatto per la profondità, per la tridimensionalità di certi tipi di notizie. È un grande strumento per gli slogan, c'è poca differenza fra un tweet e uno slogan. Io non sono mai riuscito, non ci ho neanche provato a concentrare una cosa sensata in pochi caratteri. Sì, Voltaire ci riusciva, ci sono dei grandi epigrammatisti che ci riuscivano, ma di solito ti viene bene una battuta in pochi caratteri, non ti viene fuori un ragionamento, un approfondimento. Quindi i mezzi di comunicazione andrebbero visti come un sistema integrato nel quale tu se vuoi sapere una cosa subito la trovi sul web, poi se vuoi vedere qualcosa in più hai la televisione e poi se vuoi approfondire meglio hai il giornale. Naturalmente questo presuppone che tutte le fonti siano cristalline, siano incontaminate, questo purtroppo sappiamo che non lo è, che non lo sono per la ragione che contano molto le proprietà, è inutile che stiamo qui a dire in quali mani sono le televisioni in Italia, sono dei partiti per quanto riguarda la RAI in particolare del governo e di Berlusconi o di Cairo le televisioni commerciali, i giornali sappiamo che sono tutti in mano ai poteri economici salvo un paio e quindi questo sistema integrato rimane comunque un'utopia perché questo sistema può funzionare soltanto se ti rimanda aperto il rubinetto dell'acqua cristallina incontaminata dalla sorgente all'utente ma di solito l'inquinamento avviene già sul rubinetto per cui immaginatevi poi quello che si incontra per la strada prima che si arrivi a incontrare l'utente. La complessità di questo tipo di informazione giudiziaria, la tridimensionalità di questa informazione giudiziaria la dimostrano moltissimi casi, io vi ho fatto l'esempio di Andreotti che è proprio un caso di disinformazione scientifica voluta, studiata a tavolino, non poteva esistere che gli italiani venissero a sapere che l'uomo che li aveva governati più di tutti gli altri era un mafioso, il sistema non lo poteva reggere, si è fatto di tutto per evitare quel processo e non si è riusciti a evitarlo, si è fatto almeno di tutto per evitare che la gente sapesse come era andato a finire, perché era una verità troppo forte, recentemente è uscita una sentenza di primo grado sulla trattativa Stato-mafia, quella è un'altra verità che il sistema non può reggere, cioè non è pensabile che gli italiani vengano veramente a sapere che quello Stato che da 25 anni gli racconta di combattere la mafia nel momento in cui nasceva la seconda repubblica trattava con i mafiosi moltiplicando le stragi che ufficialmente diceva di voler fermare e causando nuove stragi che non ci sarebbero state senza quella trattativa, questo dice la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Palermo e noi abbiamo pubblicato in un libro, in sintesi ovviamente perché è una sentenza di 3500 pagine, no anzi di 5000 pagine, l'abbiamo ridotte a meno di 500 ma già leggerne 500 è pesante, eppure questo dice, senza la trattativa di quei carabinieri mandati da politici dei governi dell'epoca, i governi dell'epoca erano il governo Amato, il governo Ciampi e poi il governo Berlusconi, senza quella trattativa i mafiosi si sarebbero fermati alla strage di Capaci, non ci sarebbe stata la strage Borsellino di Via D'Amelio, non ci sarebbero state le stragi di Firenze, di Milano e di Roma. e se non fosse arrivato Berlusconi a chiudere quella trattativa le stragi non si sarebbero fermate nel gennaio del 94, questa è una sentenza che se uno la legge capisce per quale motivo nessuno ne parla, perché il sistema non può reggere quella verità, è una verità troppo grave, perché gli italiani possano esserne messi a parte, è una verità che va circoscritta ad ambienti di pochi intimi e si spera che presto la Corte d'Appello faccia piazza pulita anche di quella sentenza sconosciuta perché altrimenti poi alla lunga quella sentenza gira, soprattutto se ha un altro bollino di qualità, quello della Corte d'Assise d'Appello. Io ho molto criticato il voto su Rousseau a proposito del caso Diciotti e al di là dei tecnicismi che non sto qui a evocare, l'ho criticato soprattutto perché anche il caso Diciotti è un caso tridimensionale, è un caso tridimensionale perché è complesso, non è un caso di immunità parlamentare, quindi è sbagliato dire che è stata data l'immunità a Salvini, c'è un articolo della Costituzione che prevede espressamente che il giudice si fermi e chieda al Parlamento se un ministro sospettato di avere commesso un reato nell'esercizio delle sue funzioni ministeriali possa essere processato oppure non debba essere processato perché si ritiene che obbediva a un interesse pubblico preminente o a un interesse costituzionalmente riconosciuto. Io penso che quel reato non sia stato commesso per esempio, penso che quello non fosse un sequestro di persona, penso però che quell'atto non sia stato compiuto in nome di un interesse pubblico preminente, penso che ci potesse essere un interesse pubblico, non penso che quell'interesse potesse essere preminente perché ci potevano anche essere altre scelte diverse da quelle di fermare una nave nel porto italiano, nave italiana, per cinque giorni che avrebbero ottemperato allo stesso interesse pubblico ma penso soprattutto che il Parlamento avrebbe dovuto dire, secondo noi quello non è un reato, ma secondo noi il ministro non ha agito per un suo tornaconto personale, per un interesse pubblico ma non pensiamo che l'interesse fosse preminente al punto da costringerlo a prendere quell'unica decisione e quindi ci rimettiamo alla decisione dei giudici. Tanto più che il Presidente del Consiglio, il Vice Premier Di Maio è il Ministro dei Porti, dei Trasporti e quindi dei Porti Tonini, lì in qualche modo si sono autodenunciati per avere condiviso quella scelta e quindi nel momento in cui il vertice del Governo si autodenuncia insieme al Ministro imputato, a quel punto poi deve essere conseguente e deve delegare alla magistratura il compito di stabilire se effettivamente quel reato è stato come sono. Ma secondo me, per questo abbiamo titolato in maniera un po' spiritosa a Rivinto Barabba, dire volete che votiamo in un modo o volete che votiamo in un altro a persone che non hanno gli strumenti, cioè tutta quella pappardella che ha mandato la Procura, anzi il Tribunale dei Ministri al Parlamento e tutti i precedenti giurisprudenziali di casi analoghi eccetera eccetera, fosse esattamente come dire volete libero Gesù o Barabba. Di solito in quel caso ci si sbaglia e si predilige Barabba, anche se io non penso che in quel caso Salvini si fosse comportato in maniera criminale, penso semplicemente che avesse fortemente sbagliato scelta. La complessità di quel caso era tale che non doveva essere sottoposta a un giudizio secco si no, a un referendum popolare, cosa che invece penso che vada fatto quando si assumono delle decisioni in materia di leggi, in materia di emendamenti, in materia soprattutto di questioni importanti di coscienza, di etica eccetera, per questo io credo che una piattaforma come quella di Rousseau sia estremamente utile perché far partecipare le persone alla formazione delle leggi, far suggerire alle persone delle iniziative legislative, venendo qui c'era un nostro amico notaio che è qua che ci segnalava un problema che riguarda la legge sulle successioni e inevitabilmente io sono circondato da persone che continuamente mi mandano delle lettere o mi fermano per la strada e mi dicono ma perché non fanno una legge su quello eccetera, ecco avere uno strumento nel quale si può suggerire a qualcuno non avendo un centralino a cui telefonare perché i 5 stelle non hanno sedi quindi non hanno i centralini, secondo me è un grosso passo avanti ma la tridimensionalità dovrebbe essere affidata ai professionisti, noi paghiamo fior di soldi i parlamentari, adesso il PD vuole anche aumentargli un po' perché ci vuole un reddito minimo, un salario minimo per questi poveri dereliti che non sanno come sbarcare il lunario, insomma con 14 mila euro come fai a campare onestamente ogni mese, non arrivi alla terza settimana, ecco noi paghiamo profumatamente dei parlamentari e questi parlamentari qualche responsabilità sui temi complessi se la devono prendere e se poi decidono in maniera che non è condivisa dai loro elettori ne pagano le conseguenze ma questo è il principio di responsabilità. Vi faccio un altro caso che sicuramente piacerà di più a questo uditorio che non quello che ho fatto prima sul caso Diciotti ma io penso che qui ognuno deve dire quello che pensa, io penso questo l'ho scritto sarebbe ridicolo se non lo dicessi. Il caso Frongia è un minuscolo caso, è un minuscolo caso che è stato ingigantito su tutte le prime pagine, Frongia è l'assessore allo sport del Comune di Roma, l'anno scorso c'era un'inchiesta che riguardava l'avvocato Lanzalone, che riguardava il costruttore Parnasi, politici pagati da questo Parnasi con favori o altre utilità per ungere le ruote, non credo per avere favori sullo stadio perché a Parnasi gli hanno dimezzato il progetto di stadio, cioè se c'è qualcuno che ha fatto favori a Parnasi è la Giunta Marino che ha deliberato l'utilità pubblica di uno stadio circondato da torri, da speculazioni immobiliari edilizie, è arrivata la Raggi e gli ha detto si fa lo stadio, si fa lo stadio, quindi via le speculazioni via le togli e ha dimezzato le cubature, quindi tutto si può dire della Giunta Raggi fuorché abbia fatto un favore ai palazzinari, uno può anche dire non doveva fare lo stadio ma allora io mi domando per quale motivo a Torino la Juve ha lo stadio, adesso lo vogliono fare a me ma per quale motivo a Roma è diverso, tanto più che lo pagano i privati, perché non è che ci siano grandi investimenti privati a Roma se non quello, ma in ogni caso l'inchiesta poi va avanti viene chiusa, 19 richieste di rinvio a giudizio, tra i quali 3 politici che sarebbero stati pagati da Parnasi, 2 sono di Forza Italia e 1 del PD, quindi il fatto che Parnasi sia uno dei 5 Stelle lo possono giusto raccontare i giornali che mentono perché gli unici politici che sono stati pagati secondo la procura di Roma da Parnasi sono 2 di Forza Italia e 1 del PD. adesso si scopre che c'è una parte di quell'inchiesta che è stralciata verso l'archiviazione che riguarda posizioni di cui la procura ha ritenuto che non c'erano reati contestabili tra queste posizioni c'è il povero Frongia, povero Frongia che un giorno incrociando Parnasi in comune perché Parnasi ovviamente viene ricevuto, non era un criminale, non è un pregiudicato, è un costruttore che va lì a fare delle proposte, a seguire i suoi progetti, a parlare negli uffici e un giorno Parnasi gli dice avete mica dei giornalisti bravi che non avete assunto perché io devo mettere uno al marketing e Frongia non è che gli dice metti questo che è amico mio, dice ad alcuni giornalisti che hanno lavorato nell'ambiente che se sono interessati perché sono disoccupati mandino un curriculum a questo Parnasi, fine della cosa, per cui all'inizio si pensava a chissà quale scambio di favori e alla fine si scopre che non c'è stata né una richiesta di favori né un ricevimento di favori per cui tutto ciò viene avviato all'archiviazione. Lo scoprono il giorno dopo in cui è stato arrestato De Vito, che è stato arrestato invece con l'accusa di avere preso dei soldi da Parnasi e da altri costruttori e di essersi fatti tenere da parte per il dopo secondo mandato, non sappiamo se sia colpevole o se sia innocente, insomma gravi indizi di colpevolezza ne sono stati trovati perché il GIP l'ha arrestato e l'ha mandato in carcere quindi non si mandano i presidenti dei consigli comunali in carcere a cuor leggero, in questo momento c'è un giudice che dice che ci sono gravi indizi di colpevolezza, poi vedremo se quegli indizi si trasformeranno in prove. Il caso Frongia e il caso De Vito non c'entrano una mazza, sono due inchieste completamente diverse, uno è accusato di avere ricevuto dei soldi, l'altro è accusato di niente, semplicemente si scopre che non è stato ancora archiviato. E cosa fanno i giornali? Approfittando del fatto che pochi sono in grado di distinguere nella tridimensionalità, nella complessità di queste vicende. C'è uno che è stato iscritto per corruzione di cui si sta per chiedere l'archiviazione, ce n'è un altro che è stato arrestato per corruzione e è stato espulso un minuto dopo. Perché continuare a canersi su De Vito visto che è fuori? Bisogna dimostrare che De Vito ha contaminato la giunta Raggi, che non è una mela marcia ma che è marcio tutto il cestino delle mele. E quindi il giorno dopo indagato anche l'assessore Frongia, fedelissimo della Raggi, l'assessore Frongia nella rete della corruzione, questo è il titolo di prima pagina di Repubblica, su un assessore allo sport, di cui tutti sanno che sta per essere chiesta l'archiviazione, infatti negli articoli i giornalisti si paravano il culo e scrivevano la procura sta per chiedere l'archiviazione, già però era in prima pagina come se fosse indagato esattamente come De Vito e come se la giunta Raggi fosse stata foraggiata dalla stessa corruzione di cui è accusato di essere stato foraggiato De Vito. Tutti i giornali ce l'hanno in prima pagina e lo fanno in fretta, subito, perché lo sanno che due giorni dopo ci sarà la richiesta di archiviazione e che quel gioco sporco non lo possono più fare. Allora voi vedete come è importante da un lato avere gli strumenti per cogliere la tridimensionalità e la complessità degli avvenimenti e dall'altro avere un'informazione che non sia viziata dal pregiudizio dentro il rubinetto, perché se il pregiudizio è già dentro il rubinetto tutto quello che esce dal rubinetto è inquinato e contaminato dal pregiudizio. Qual era il pregiudizio? Non ci accontentiamo di De Vito perché De Vito l'hanno mandato via. Noi dobbiamo dimostrare che anche la Raggi ruba tramite il suo fedelissimo Frongia. Andatevi a vedere i giornali di ieri che avrebbero dovuto dare notizia della richiesta di archiviazione per Frongia. Bisognava munirsi di microscopio elettronico per trovare la notizia perché era letteralmente invisibile. Perché se l'avessero data, non dico con la stessa evidenza perché è impossibile, ma almeno con un po' di evidenza, i loro lettori avrebbero detto ma quante volte ci avete presi per il culo? Come ci state prendendo per il culo su Frongia? E quindi la credibilità della carta stampata, che lo dico con rammarico perché anch'io ho un giornale che esce su carta, sarebbe ulteriormente precipitata e distrutta. Il caso poi di De Vito è esploso un giovedì, due giorni prima che si votasse in Basilicata. In Basilicata voi avete mai sentito dire che il candidato del PD era alleato con la lista dell'ex governatore che era stato arrestato l'anno scorso? Noi abbiamo sentito per due o tre giorni e i 5 stelle sono come gli altri. Saranno come gli altri perché gli hanno arrestato uno per corruzione dopo dieci anni? Può essere. Ma quello l'hanno cacciato dopo due minuti. Gli altri, il loro governatore arrestato che gli ha fatto cascare la giunta e ha fatto cagionare le elezioni anticipate, l'hanno candidato in una lista e ci si sono alleati e oggi dicono abbiamo tenuto perché loro hanno preso il 7,7% e la lista dell'arrestato ha preso l'otto. Cioè l'arrestato ha preso più voti della lista del PD che era alleata con l'arrestato. Io voglio dire che va bene tutto nella vita, ma prima di dire che un altro è uguale a te, aspetta che i 5 stelle alle prossime elezioni di Roma si apparentino con la lista di Vito. A quel punto dici ecco sono finalmente uguali a noi. Ma fino a quando c'è questa piccola differenza stati zitto. Il problema è che queste cose le avrebbe dovuto segnalare l'informazione che invece era impegnata a raccontare la stessa storia e cioè il fatto che erano tutti uguali. Dall'altro lato quello che ha vinto è un generale della guerra di finanza, 5 minuti e ho finito. Un generale della guerra di finanza che cosa deve fare secondo voi? Deve arrestare gli evasori fiscali e i frodatori fiscali. La lista di Forza Italia che guidava la coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni in Calabria si chiamava Berlusconi per Bardi. Ora Berlusconi è un frodatore fiscale conclamato. Bardi è quello che avrebbe dovuto arrestarlo, non candidarsi con lui. Ha vinto le elezioni, benissimo. La complessità anche un po' comica di queste elezioni sarebbe stato il caso di raccontarla. Non è stata raccontata. L'unica cosa che interessa è chi arriva primo, chi arriva secondo, che per carità è interessante perché poi alla fine dipende da chi arriva primo, chi arriva secondo e chi arriva terzo. 5 Stelle sono il primo partito, chi se ne frega è un primato inutile, non hanno alleati, si sono fermati al 20 e qualcosa per cento, non governeranno. Ha vinto il centrodestra, benissimo. Però attenzione, ha vinto con un generale della guerra di finanza candidato da un pregiudicato per frode fiscale. Questo dovrebbero raccontarlo, io credo che in America lo racconterebbe, non succederebbe, quindi non potrebbero raccontarlo, ma se succedesse hai voglia se lo racconterebbero. Ultima cosa, Formigoni. È così esaurisco, diciamo che la comica finale. Formigoni è stato condannato a 5 anni e 10 mesi, corruzione, finanziamento illecito, associazione per delinquere. Non sarebbe stato colpevole, è colpevole in Cassazione di essersi fregato 6 milioni di soldi nostri rubati alla sanità, cioè rubati ai malati, ai medici, agli infermieri, in cambio di 200 milioni di euro regalati dalla sua regione, soldi nostri, a due cliniche private che gli pagavano le tangenti. Saldo complessivo del danno che ci ha causato 200 più 6. 200 alle cliniche private che non ne avevano diritto, 6 nelle sue tasche. Del resto aveva fatto voto di povertà e quindi lo possiamo capire. Allora, questo signore in un paese minimamente decente lo mettono dentro, chiudono a chiave e buttano la chiave per una ventina d'anni. Da noi gli è andata bene, le pene sono moderate e quindi 5 anni e 10 mesi. Invece sembra uno sproposito. Ma sembra uno sproposito soprattutto il fatto che se c'è una sentenza con scritto condanna a 5 anni e 10 mesi di reclusione l'imputato Formigoni Roberto, Formigoni Roberto entra in carcere e ne esca 5 anni e 10 mesi dopo. tant'è che sono già un mese che è dentro e tutti che sono scandalizzati dicono ma com'è possibile che non l'abbiano ancora tirato fuori? Come com'è possibile? Deve fare 5 anni e 10 mesi, ne ha fatto uno, gliene restano 5 anni e 9 mesi. Dov'è il problema? Allora hanno cominciato a cavillare perché hanno ragione loro. Fino all'altro ieri questo signore sarebbe libero e bello perché la legge Previti, detta anche Cirielli, esentava dal carcere gli ultrasettantenni e le leggi svuota carceri ne abbiamo avute 4 negli ultimi 10 anni, fanno sì che fino a 4 anni di pena tu in galera non ci entri nemmeno per visitare il penitenziario. Neanche se ti impegni riesci ad andare dentro se non riesci a prendere almeno 4 anni e un giorno e in quel caso fai un giorno. Poi gli altri 4 li fai ai domiciliari e ai servizi sociali a Cesano-Boscone. Quindi perché Formigoni sfugge a 72 anni alla doppia regola 72 anni domiciliari, ultimi 4 anni domiciliari? Perché c'è la legge cosiddetta spazzacorrotti, diciamo anticorruzione. Cosa dicono questi che sono scandalizzati dalla legge anticorruzione? Dicono che hai cambiato le carte in tavola dopo che lui aveva commesso i reati, glielo dovevi dire quando rubava che quei 5 anni e 10 mesi scritti nella sentenza erano veri e non erano finti, perché lui era convinto che fossero finti, altrimenti mica avrebbe rubato. Per fortuna esiste una giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite che dice che se io istituisco un reato o lo depenalizzo, cambio le carte in tavola e quindi quella legge non può essere retroattiva perché uno deve sapere quando fa una cosa se è reato o non è reato. Se cambio la pena è ovvio che anche la nuova pena si può applicare soltanto per il futuro e non per il passato perché io nel momento in cui commetto un reato e so che è punito con quel tipo di pena non posso poi essere fregato con una pena superiore introdotta dopo. Quindi quelle sono norme penali sostanziali non retroattive, ma le norme che ti dicono le modalità di espiazione della pena che è sempre quella per il reato che è sempre quello, quelle non possono soggiacere al divieto di retroattività. Perché? Perché tu lo sai che è un reato, sai che rischi una pena, se poi l'ordinamento è così generoso da non fartela scontare non è necessario, non è detto che lo sarà sempre così generoso, può anche cambiare e questo lo abbiamo visto perché in questi anni sono state fatte delle leggi, spazza pedofili, spazza stupratori, spazza contrabbandieri, spazza mafiosi, spazza terroristi, spazza pedopornografi che hanno già escluso queste categorie criminali dalle pene alternative e dai benefici tipo quello degli ultrasettantenni. E nessuno ha mai protestato perché le facevano destra e sinistra pensando tanto io sono né pedofilo né contrabbandieri, io rubo, prendo tangenti quindi non sono compreso in queste spazza. Adesso che ci hanno compreso anche quelli che prendono tangenti improvvisamente dicono ah non può essere retroattiva, eh no purtroppo la giurisprudenza ha già detto che è così e infatti al momento Formigoni tristemente al trentunesimo giorno ancora è in galera e forse ne farà anche trentadue o trentatré. Questo esempio ve l'ho fatto perché io sono venticinque anni che chiedevo una legge anticorruzione come quella che è stata fatta ma non ero mica da solo, la chiedevano i miei colleghi di Repubblica, del Corriere della Sera, della Stampa, alcuni anche del Messaggero senza esagerare visto che è il giornale di Caltagirone e altre cose di questo genere. Ora sono da solo e passo per essere un grillino ma io la chiedevo quando non sapevo neanche cosa vuol dire grillino perché Grillo faceva spettacoli, Casaleggio faceva il dirigente, il papà di Davide faceva il dirigente, Davide non era nato e io non sapevo che cos'erano i grillini, però sapevo che cos'era la legge anticorruzione. Voi capite com'è distorcente il fatto di avere un'informazione inquinata alla fonte? È distorcente perché se tu rimani semplicemente coerente sulle tue idee, mentre gli altri hanno cambiato tutti idea perché adesso Repubblica critica la spazza Corotti e difende Formigoni e il Corriere critica la spazza Corotti e difende Formigoni e ha criticato pure la blocca prescrizione e sono 25 anni che Repubblica e il Corriere chiedevano di bloccare la prescrizione al rinvio a giudizio Bonafede l'ha bloccata al primo grado, secondo me troppo in là e si lamentano lo stesso venendo meno alla loro coerenza per cui alla fine chi resta coerente diventa grillino. Tutto è molto complicato, il web non sempre riesce a cogliere questa complessità ma questa complessità la si riesce a cogliere soltanto se si mettono insieme tutti i mezzi di informazione e se si agisce anche con una legge che liberi la RAI per esempio e che liberi i giornali dai conflitti di interessi partitici e affaristici per fare in modo che quel famoso rubinetto ci mandi un po' di acqua pulita. Grazie.